Ore 13.34, Tagliacozzo, provincia di L'Aquila. Un boato viene udito a chilometri di distanza. Ne seguirà un secondo, un terzo e l'ultimo dopo 20 minuti. Qualcuno pensa a un terremoto, poi si vede il fungo di fumo e polvere levarsi al cielo e allora è tutto chiaro. A saltare in aria erano le sette case matte della pirotecnica Paolelli e il pensiero corre al 25 luglio scorso quando a Villa Cipressi di città Sant'Angelo cinque persone persero la vita. In quel caso era la famiglia di Giacomo, esperta in produzioni di fuochi pirotecnici. In quello di ieri invece le vittime accertate e carbonizzate sono Valerio Paolelli, di 37 anni, figlio del titolare, Antonio Morsani, 47 anni e Antonello D'Ambrosio, 33 anni. A riportare gravi ferite invece sono tre persone, lievi e scoriazioni invece per il proprietario Sergio Paolelli e il figlio Armando. Non ancora accertate le cause dell'incidente, l'onda d'urto ha fatto tremare la marsica. I residenti dei comuni limitrofi hanno visto andare in frantumi le finestre. I soccorsi sono arrivati via cielo con l'elicottero dei vigili del fuoco e con presidi da terra, impiegando tutte le forze dell'ordine, polizia, corpo forestale, guardia di finanza, protezione civile, polizia provinciale, volontari del 118. Lo scenario che si sono trovati davanti agli occhi è stato descritto come un vero campo di guerra. Sono riprese questa mattina le operazioni di recupero. Dopo aver transennato l'aria e messo in sicurezza tutti i possibili focolai ancora inesplosi, si cerca tra le macerie, si cerca di ricostruire l'accaduto, di provvedere a riparare ai danni causati dallo spostamento d'aria, come l'interruzione di corrente causata dal danneggiamento dei cavi dell'alta tensione. La Paolelli opera nel settore della pirotecnica dal 1900, una storia lunga un secolo che li ha resi punto di riferimento per tutto il centro Italia. Valerio Paoletti, una delle vittime, era il braccio destro del padre, Sergio, cresciuto tra quelle polveri e quei fuochi che per lui erano diventati una passione, che sapeva gestire, sapeva domare da quando era piccolo. Nella giornata di ieri sono arrivate anche le parole di cordoglio del presidente della Repubblica Napolitano. Dopo aver appreso della drammatica notizia, il messaggio del capo dello Stato, inviato tramite segretario generale della Presidenza, è stato consegnato al sindaco di Tagliacozzo. Queste le parole espresse la prego, signor sindaco, di farsi interprete della partecipe e solidale vicinanza del capo dello Stato, esprimendo ai familiari delle vittime finora accertate il suo commosso cordoglio e ai feriti l'augurio di pronta guarigione.